Conflitto russo-ucraino, agricoltori colpiti da crisi, Vinciullo, pubblicato avviso per l'aiuto alle imprese. Il dirigente generale della Sostenibilità regionale dell'agricoltura e dello sviluppo rurale, preso atto che gli agricoltori che operano nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli hanno subito una fortissima contrazione a seguito della grave crisi internazionale russo-ucraina e l'aumento vertiginoso dei costi di produzione, mangimi, gasolio agricolo, energia elettrica, ha pubblicato l'avviso con il quale sono previste forme di aiuto indispensabili per sostenere le imprese agricole siciliane mediante la concessione di un aiuto. Lo comunica Vincenzo Vinciullo, coordinatore provinciale di Prima l'Italia. Il decreto è stato pubblicato sulla gazzetta ufficiale della regione siciliana nel sito istituzionale dell'assessorato ed è a disposizione di quanti riterranno di essere stati colpiti da questi eventi e quindi richiederanno l'intervento economico della regione. Beneficiari sono i soggetti per i quali risulta iscritto a ruolo un debito nei confronti dei consorsi di bonifica.